L'onorevole Salvatore Cicco, che è un sardo nato in Sicilia, però c'è padre sardo e madre siciliana, quindi per quello che prende utile tutte e due le parti, è candidato nella circoscrizione delle isole come l'onorevole Lavia. L'onorevole Marduscello, come si evince dal nome, anzi dal cognome, è candidato in Campania, in Puglia, Basilicata, Calabria, Abruzzo e Molise. Le circoscrizioni sono molto ampie. Invece Laracomi è candidata nella circoscrizione che comprende Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Se vi abbiamo convinto e ci volete scrivere il nostro nome, ve ne siamo grati, se no siamo grati lo stesso a voi per aver avuto la pazienza di ascoltarci in questo pomeriggio brussellese. Grazie a cuori tutti.